I suoi video E da qui ho iniziato a leggere i suoi scritti Di lui mi ha molto colpito la vicinanza e l'attenzione che dava ai giovani E soprattutto mi ha incuriosito la nuova proposta di una chiesa sempre più vicina agli ultimi Ti ringraziamo Signore perché è suscitato nella chiesa di Lecce il tuo servo Don Ugo de Blasi Egli col suo ministero sacerdotale è stato maestro di sapienza Guida spirituale feconda, esempio di pietà, di vita cristiana e sacerdotale Fa che la sua testimonianza di fede e la sua ricchezza di dottrina Ci spingano ad essere fedeli al Vangelo Per divenire anche noi gioiosi comunicatori e testimoni della parola Glorifica Signore il tuo servo Don Ugo E concedici per sua intercessione i doni della tua bontà Misericordiosa e provvidente